La Guardia di Finanza celebra il suo 250esimo anniversario. Cantieri ed elezioni cambiano i seggi per 8.000 elettori pesaresi. Urbino e Firenze patto per strategie comuni nel nome di cultura e turismo. Cagli capitale della cultura per una settimana con 25 appuntamenti. Tennis arriva a Pesaro, la Coppa Davis vinta dall'Italia dopo 47 anni d'attesa. La buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80 che in questa edizione di martedì 9 di aprile apriamo con le celebrazioni del 250esimo anniversario della Guardia di Finanza. Un traguardo prestigioso per la storia delle Fiamme Gialle che si sta celebrando in tutta Italia. Celebrazioni che oggi sono cominciate anche nelle Marche a partire dalla Mole Van Vitelliana di Ancona. Nelle Marche sono partite questa mattina le celebrazioni per il 250esimo anniversario della Guardia di Finanza. Alla Mole Van Vitelliana di Ancona il comando regionale delle Fiamme Gialle ha celebrato la ricorrenza con una solenne cerimonia alla presenza delle massime autorità civili e militare oltre che di tanti studenti universitari e degli istituti superiori. E' diventato un moderno corpo di polizia economico-finanziare, quindi un corpo di polizia a tutto tondo al servizio del paese, al servizio della collettività, al servizio dei cittadini onesti. Cerimonia che ha fatto mostra di sé anche dei dispositivi in utilizzo ai finanzieri marchigiani, dalle unità cinofili al simulatore navale, il tutto a ribadire il ruolo profondamente capillare che si è modificato nei decenni della Guardia di Finanza. Per antonomasia la Guardia di Finanza viene individuata come quel corpo di polizia che si occupa di fare verifiche fiscali. Bene, l'idea di quella polizia tributaria che nasce nel 1926, polizia tributaria investigativa, oggi è assolutamente bypassata da questo ruolo, come dicevo prima, di polizia economico-finanziaria. Quindi quello è uno dei segmenti di azione del corpo, quindi della tutela della finanza pubblica, ma insieme a questo ci sono tutta un'altra serie di settori di intervento, nei settori più disparati appunto, che sono tutti al servizio della collettività e servono in maniera sinergica a fare in modo che le iniziative del Paese siano sempre accompagnate da un'attenta vigilanza e un'attento controllo. Nelle sale della Mole anche l'esposizione fotografica commemorativa dei finanzieri Carlo Grassi Giuseppe Maganucco, medaglia d'argento al valore militare e del cosiddetto Fatto di Ancona del 1918. Nella tradizione Il Futuro, il motto di un 250esimo anniversario che guarda le prossime sfide. Diciamo le nostre sfide, le sfide sono quelle di mantenere sempre alto il livello di attenzione sulle possibili iniziative di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico di questa regione, un tessuto economico importante appunto da un punto di vista proprio strutturale, commerciale, industriale. Quindi alto il livello di attenzione, come deve essere alto il livello di attenzione su tutte quelle iniziative irregolari che minano la concorrenza, quindi la libera concorrenza che va a danno del cittadino, dell'imprenditore onesto che si mette in regola con le linee di azione dettate dal nostro ordinamento. E quindi per tutti questi imprenditori noi siamo al loro fianco, siamo in modo sinergico attenti alle loro esigenze e siamo qui per fare in modo che l'economia di questa regione sia sempre al meglio dettata da linee di azioni performanti ed evolute. E dalla Guardia di Finanza passiamo ad alcune operazioni di polizia segnalate dalla Questura di Pesaro. Un quarantenne con precedenti giudiziari è stato infatti denunciato da un uomo con invalidità permanente, suo compagno d'alloggio. L'invalido lamentava infatti l'indebito utilizzo della propria carta di credito. Verificando l'estratto conto, l'ufficio denuncia ha effettuato ulteriori controlli nell'esercizio commerciale dove erano state effettuate le transizioni acquisendo le immagini di videosorveglianza. La visione delle riprese ha permesso di individuare il responsabile del fatto che una volta rintracciato ha ammesso di aver sottratto la tessera bancaria per acquistare dei gratta e vinci con la speranza di utilizzare i soldi della vincita per comprare droga essendo tossicodipendente. L'uomo è stato denunciato per il reato di furto con destrezza e in debito utilizzo di carta di credito. Un'altra operazione ha portato alla denuncia un cinquantenne, anche egli con precedenti di polizia, che ha rubato il portafogli di una signora a un supermercato pesarese, ma è stato incastrato anche in questo caso grazie alle immagini di videosorveglianza. La donna, accortasi del furto dopo un passaggio alle casse automatiche, ha infatti sporto denuncia e l'esame delle telecamere ha portato a individuare l'uomo in questione intento a nascondere repentinamente il borsello della donna in un casco per poi dileguarsi in moto. Motociclo che è stato visto nei giorni successivi nello stesso supermercato da un agente in borghese che è arrivato a denunciare il cinquantenne. Lasciamo la cronaca e parliamo della marcia d'avvicinamento alle elezioni. Non lo facciamo in termini politici, però in termini più strettamente pratici, perché i vari cantieri scolastici presenti a Pesaro in questi mesi portano infatti a modificare il seggio elettorale di chiamata alle urne per più di 8.000 elettori. Andiamo a vedere quali saranno le variazioni in questo servizio. La convivenza fra cantieri, soprattutto di ristrutturazione scolastica, e le elezioni amministrative ed europee del prossimo 8 e 9 giugno porteranno a modificare la sede elettorale per quattro seggi in riferimento a 8.428 elettori pesaresi. E' quanto illustrato dall'assessora comunale Francesca Frenquellucci in risposta all'interrogazione del consigliere Emanuele Gambini avvenuta nel Consiglio Comunale dell'8 aprile. Nel dettaglio i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Anna Frank di Santa Maria delle Fabrecce porteranno gli elettori di tre sezioni a spostarsi nei locali del quartiere Vismara in via Basento. Una sezione dei locali comunali di Pozzo Alto sarà invece sostituita dagli adiacenti locali parrocchiali della stessa Pozzo Alto. Le tre sezioni di via Petrarca 18 a Muraglia, ora sede dell'università, si sposteranno a pochi metri nel centro socioculturale Salice-Gualdoni. I seggi di cinque sezioni della scuola Mascarucci, ora alienata dal comune per nuova destinazione, saranno invece ospitati in via Le Trieste 236 a Pesaro Studi, ora sede temporanea della primaria Mascarucci. Quindi è stato fatto un lavoro per cercare di, innanzitutto, aspettando questo decreto ministeriale che ancora non è uscito, di poter informare i cittadini, iniziare a mettere anche la cartellonistica già da oggi nelle scuole e poi si è anche pensato, si sta lavorando, proprio per il via Assoria, per la scuola Mascarucci via Agostini, che verrà spostata a Pesaro Studi, di mettere una navetta a disposizione della cittadinanza, anche perché parliamo di cinque seggi ed è l'unico luogo dove, diciamo, c'è una distanza di circa, insomma, un chilometro. E da Pesaro ci spostiamo a Urbino perché domenica sera al Teatro Sanzio c'è stato un momento di confronto molto particolare fra il candidato a sindaco di Urbino per il centro-sinistra Federico Scaramucci e il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, per studiare strategie comuni delle due città espressioni del Rinascimento, Urbino e Firenze, in ottica di cultura e turismo. Noi oggi abbiamo lanciato questo manifesto per la valorizzazione della cultura e del turismo per Urbino e del territorio. Abbiamo voluto farlo insieme al sindaco di Firenze, Dario Nardella, che appunto ha fatto tantissimo per la città di Firenze. Noi vogliamo avviare un grande progetto con lui e con gli amministratori del domani della città di Firenze, perché sono le due città di Rinascimento, quindi c'è una storia che le lega, c'è un rapporto ormai, insomma, ultracentennale che lega queste due città. E la città di Urbino, secondo il nostro punto di vista, deve essere ben legata con i piedi saldi a terra, ma deve avere anche uno sguardo alto verso il mondo. Le relazioni per noi con Firenze sono molto importanti. Ho accolto con gioia questo invito e voglio essere qui per rinnovare un rapporto che non può che rafforzarsi in ragione della cultura, della storia. Stiamo parlando di due grandi città che sono, se vogliamo, le colonne del Rinascimento. Ma non vogliamo solo parlare di Rinascimento al passato, vogliamo parlare anche di un Rinascimento attuale. e le parole di Federico Scaramucci ci riportano infatti ad un desiderio di rivalza di Urbino e della comunità di Urbino. Nel campo universitario, ad esempio, Urbino è conosciuta come città universitaria, ma negli ultimi anni la sensazione è che si sia un po' appannata a questa immagine. Così come Urbino è un centro culturale e turistico di livello internazionale e credo però che possa fare molto di più, soprattutto se esce da una condizione di isolamento. Io da sindaco in questi dieci anni non ho mai avuto una sola occasione di colloquio, dialogo, collaborazione con l'amministrazione di Urbino. Questa cosa mi ha colpito molto, forse perché non mi sono fatto avanti io, però certo neanche l'amministrazione attuale ha fatto altrettanto nei confronti di Firenze. Spero che con Federico Scaramucci si possa fare, invece, finalmente qualcosa di importante. Noi abbiamo già pensato a lanciare delle mostre di livello internazionale sulla figura di Raffaello, abbiamo già pensato a organizzare delle iniziative legate al rapporto tra rinascimento e arte contemporanea, visto che a Firenze abbiamo sperimentato dei progetti importanti, così come vogliamo lavorare sulle infrastrutture. Ho calcolato che se dovessimo prendere i mezzi pubblici da Fivizzano, in un giorno feriale, in provincia di Massacarrara, per arrivare a Urbino, ci vogliono 7 ore e 55 minuti, cioè una giornata intera. È una cosa indecente quando in linea d'aria siamo a qualche centinaio di chilometri. Anche su questo le nostre due città possono lavorare per sviluppare un sistema di mobilità e di infrastrutture che colleghi sempre meglio e sempre di più la Toscana e le Marche. Questo aspetto è fondamentale. Si parla poco dell'Italia centrale, si parla poco del ruolo strategico che possiamo avere e le città possono essere un motore su questo obiettivo. È uno dei progetti della nostra coalizione La Città che verrà. Abbiamo incontrato tante persone anche in questi incontri che abbiamo fatto in giro nel territorio. Molti ci chiedono, molte famiglie ci chiedono di ridare vita e ridare socialità a questa città che è un po' depressa, è un po' triste. E noi vogliamo invece che sia di nuovo protagonista nel panorama locale, ma non solo, nel panorama anche nazionale e internazionale, cioè riportare Urbino al posto che merita. Deve essere valorizzata, è una città che ha diritto e merita un'amministrazione che la porti in alto. Sicuramente con i piedi, come dicevamo prima, ben saldi a terra, con l'attenzione all'ordinario, ma anche con uno sguardo verso i progetti che possono guardare da qui a 10-20 anni, perché la città ha questa necessità, sta vivendo un momento non facile, come abbiamo visto con il calo della popolazione, il calo delle imprese, il calo anche purtroppo del valore delle case, dell'immobiliare. Quindi serve tornare protagonisti. E per far questo abbiamo deciso proprio oggi di lanciare questo evento tematico per allacciare i rapporti tra Rubini e Firenze, le due città di rinascimento che guardano il futuro. Regione Marche e Arpam hanno fissato per il primo di maggio l'inizio della stagione di balneazione, la cui chisura è stata fissata per il 29 settembre. La balneazione in acque fluviali inizierà invece il 22 giugno e si chiuderà il primo settembre. Queste dunque le date di partenza che saranno precedute dai campionamenti d'analisi dell'Arpam, che al momento denota già qualità eccellente per la balneazione nel 96% delle coste marchigiane. E dalla costa passiamo all'entroterra provinciale perché continua il progetto 50x50 capitali al quadrato di Pesero 2024. Da ieri è partita infatti la settimana da capitale della cultura di Cagli che si propone con 25 appuntamenti. Nella piazza centrale di Cagli con alle spalle il Palazzo Pubblico, il luogo da dove parte la settimana da capitale italiana della cultura del comune di Cagli con 25 appuntamenti per questa settimana, ma un programma che poi si prolungherà per tutto il 2024. È un momento estremamente importante per la nostra città, prima di tutto perché ci crediamo in questo progetto, abbiamo riservato risorse economiche, umane, tutto quello che abbiamo l'abbiamo destinato a questo progetto, un progetto che non durerà solo questa settimana, questa settimana sarà il clou con mostre, passeggiate, mostre fotografiche e tanto, 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 concerti, tante altre cose, ma voglio sottolineare che per tutto l'anno Cagli sarà al fianco di Pesero in questa bellissima avventura, in questa bellissima opportunità che abbiamo il dovere di rappresentare al meglio. Direi che è un momento in qualche modo emozionante perché aprire la settimana della cultura con tutti questi ragazzi e ragazze che sicuramente conoscono i loro luoghi ma non hanno mai approfondito quella che è la storia del luogo e l'idea di far farle guide a loro è stata un'iniziativa che li ha in qualche modo coinvolti perché loro sono stati veramente come un palcoscenico, erano emozionatissimi, preoccupati di non riuscire a far bene e i ragazzi che hanno fruito della loro spiegazione hanno, diciamo, vissuto un momento in cui i loro compagni erano le loro guide, quindi è stato veramente un connubio ideale per aprire la settimana della cultura e per valorizzare i ragazzi, così come questa mostra. L'idea è stata quella di mettere a disposizione, come dicevo, gratuitamente alle scuole del mondo dei blocchi di foto. Queste fotografie si trovano quindi non soltanto in Italia, non soltanto a Caglia, non soltanto in Italia in Italia abbiamo circa 150 sedi, quindi sparse per tutta la penisola e anche le isole dove sono presenti ma sono presenti in tutto il mondo. Ci sono quasi 400 le scuole che hanno ricevuto in dono questo set fotografico Qual è lo scopo? Lo scopo ovviamente è duplice, non è semplicemente quello di poter avere delle belle immagini quindi non partiamo dal presupposto che deve essere una funzione di arredo, vuole essere uno spunto per avvicinare le arti ma soprattutto si va più in profondità. Si vuole far capire ai nostri ragazzi quanto sono fortunati quanto poteva essere diversa la loro vita se fossero nati altrove. Protagonisti dunque studentesse e studenti, a partire dal progetto fotografico ma che saranno coinvolti anche in tantissime altre attività. Ogni nostro alunno di classe seconda media ha adottato una foto e ha scattato una foto contrapponendo il nostro mondo al terzo mondo, facendo vedere le differenze. Un altro progetto è il progetto ceramica con un artigiana locale Linda Zepponi. I ragazzi hanno elaborato dei prodotti come delle maschere molto belli che poi esporremo oggi nell'aula magna della scuola. Per tutta la settimana le lezioni dell'istituto verranno svolte nei centri storici, nel centro storico di Cagli soprattutto in quei monumenti più caratteristici che sono la chiesa San Domenico, la chiesa San Francesco, il Torione e tutte quelle parti che serviranno ai ragazzi per fare cultura, quindi fare una lezione al di fuori dell'aula. Quindi il contesto viene trasferito dall'edificio scolastico a quello della città e quindi di tradizioni storiche e quindi tutto il resto. Ripristinare il contributo di 240 mila euro stanziato dalla giunta regionale nel gennaio 2020 è revocato negli ultimi tre anni dall'attuale maggioranza di centrodestra per riqualificare la fattoria della legalità a isola del piano. E questo l'obiettivo e l'appello lanciato oggi da una conferenza dell'opposizione in consiglio regionale a cominciare da Michaele Avitri affiancata nell'occasione dal presidente della provincia nonché sindaco d'isola del piano Giuseppe Paolini e dai referenti dell'associazione fattoria della legalità dell'Arci, della CGL e Libera Marche. Una conferenza che fa anche partire un atto ispittivo per ripristinare le risorse destinate alla riqualificazione del casolare che fu il primo bene confiscato alla mafia nelle Marche. Sabato 13 di aprile alle 17.30 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna il sindaco di Fado Massimo Seri racconterà dieci anni di amministrazione per fare il bilancio delle attività svolte. Dalle parole alle persone il titolo di questo appuntamento in cui Seri farà reso conto dei suoi dieci anni da sindaco da condividere con la collettività fanese. E invece la Sala Rossa delle Comune di Pesaro sarà intitolata alla memoria del senatore Giuseppe Righetti. Giovedì alle 17 sarà infatti scoperta una targa dedicata all'ex vice sindaco di Pesaro scomparso nel 2015 per commemorare il suo impegno civile, politico e amministrativo all'interno della città. L'itinerario della bellezza di Confcommercio Marche Nord avrà ora una sua card dedicata. Si chiama Valore Bellezza ed è una card che sarà introdotta nei prossimi mesi e funzionerà come una sorta di grande sistema fedeltà. Turisti e residenti potranno infatti fare acquisti sul territorio ricevendo uno sconto sotto forma di cashback vincolato ovvero rispendibile soltanto all'interno dei 25 comuni dell'itinerario. E fra i comuni dell'itinerario della bellezza c'è anche Cantiano che scalda già i motori per l'edizione primaverile di Cantiano Fiera Cavalli. Una novità che per il secondo anno raddoppia la tradizionale Kermesse di ottobre. Fra i segni distintivi della ripartenza di Cantiano dopo l'alluvione del settembre 2022 ci sono senz'altro le sue manifestazioni culturali e territoriali. Dopo il successo della rievocazione pasquale della turba lo sguardo è già proiettato a Cantiano Fiera Cavalli manifestazione che non solo è ripartita ma cheppure è raddoppiata. Tant'è che il prossimo 4 e 5 maggio ci sarà la seconda edizione primaverile della fiera affiancata sia la tradizionale edizione che accompagna il territorio cantianese da 45 anni. Un'edizione primaverile presentata nella location che l'ospiterà ovvero il centro ippico Labadia di Chiaserna. Abbiamo creduto comunque che questo evento, tanta è la sua forza e attrazione potesse essere riproposto in una formula nuova, primaverile che si portasse dietro anche altro oltre al cavallo e quindi complice il successo della prima edizione dopo il fermo del Covid abbiamo deciso dopo il fermo purtroppo dell'alluvione di ripartire proprio con questo grande evento. È una fiera diversa dove troverete tanto divertimento in assoluto tanto rispetto per il territorio, tanto rispetto per i cavalli quindi tanti cavalli. Per la prima volta avremo in fiera la possibilità di fare trekking, piccoli trekking di un'ora con i cavalli del Catria poi troverete guide turistiche, guide ambientali dove si può scoprire il nostro territorio a piedi con dei percorsi facili o difficili insomma a seconda dell'abilità di chi arriverà e poi avremo anche i bike quindi una fiera primaverile aperta a tutti, aperta al grande pubblico non solo agli amanti e ai tecnici dell'equitazione, tecnici di cavalli ma a tutto, dalle famiglie, io dico sempre dai bambini ai nonni quindi lo aspettiamo. Questo contesto di alta qualità ambientale alle pendici del Monte Catria fa di questa fiera di settore un qualcosa di unico a livello nazionale questa è una fiera che non si svolge dentro un padiglione fieristico ma in più di un ettaro di superficie all'aria aperta alle pendici del Monte Catria in cui oltre al cavallo si potranno assaporare tutte quelle modalità di fruizione di un territorio appunto in modalità rispettosa della tutela ambientale come il trekking, il bike e soprattutto condire questo contenitore con un patrimonio enogastronomico di alta qualità. La Coppa Davis di tennis vinta dall'Italia di Sinner e compagni lo scorso novembre dopo 47 anni di attesa azzurra sta facendo il tour delle regioni italiane e da venerdì arriverà anche a Pesaro dove sarà esposta per quattro giorni. La Coppa Davis alzata nel cielo di Malaga lo scorso novembre dopo 47 anni di attesa del tennis italiano arriverà a Pesaro. Il trofeo sarà infatti esposto dal 12 al 14 aprile a Casa Rossini per poi spostarsi nella sede del Tennis Club Baratov dove resterà fino al 16 aprile. Pesaro, capitale della cultura, viene dunque inserita nel Trophy Tour organizzato dalla Federazione Italiana Tennis che sta facendo viaggiare per tutte le regioni italiane il trofeo più iconico di questo sport per permettere a tutti gli appassionati di toccarlo con mano in un periodo davvero d'oro per il tennis nazionale che sta toccando vertici mai visti. Dalla vittoria della Davis ai trionfi di Sinner numero due del mondo ad un movimento che sta mietendo germogli quanto mai interessanti. Ne sanno qualcosa il Tennis Club Baratov dove è nato e cresciuto Luca Nardi che in questo 2024 è salito alla ribalta mondiale battendo Diokovic a Indian Wells per poi confermarsi vincendo il Challenger di Napoli. Sarà un momento quanto mai gratificante per il club che esporrà la Coppa nella sua sala trofei aprendosi a foto e selfie degli appassionati. Quella Coppa Davis che a Pesaro si è giocata in tre edizioni e che nel luglio 2016 si giocò pure outdoor al Baratov con 6.000 persone ad assistere a Italia-Argentina. La Coppa arriverà a Pesaro dopo essere stata esposta a Terni per poi proseguire il suo trophy tour verso Macerata. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ma come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti in questo martedì sera sul canale 80 a cominciare dalla cultura e dalla musica che arriva subito dopo il TG con una nuova puntata di Sinfonia di Maestri il nostro format che ripercorre questo trentennale dell'orchestra sinfonica Rossini con vari ospiti. In questo caso avremo due musicisti dell'orchestra sinfonica ovvero Matteo Fratesi timpanista e Carlo Piermartire primo trombone ne parleremo questa sera alle 20. E poi il martedì sera è la serata di Amministrando il nostro format di avvicinamento alle elezioni 2024 questa sera si parla del comune di Pesaro con la segretaria comunale della Lega Silvana Ghiretti e il consigliere comunale della lista Una città in comune Sergio Castellani si confronteranno nel nostro salotto condotto da Luigi Benelli a partire dalle 21.20 E poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali che domani, mercoledì, sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi Altra diretta è quella del giovedì sera quella dell'appuntamento con Insieme a Canestro Rush finale per la VL e anche per Insieme a Canestro avremo come ospite coach Meo Sacchetti l'allenatore della Carpegna Prosciutto Pesaro Reduce dalla vittoria di Sassari che tiene viva ancora la VL a confrontarsi con lui ci sarà anche il giornalista di Dazon Kevin Bertoni il tutto nel salotto di Insieme a Canestro condotto da Elisabetta Ferri e anche in compagnia dell'interazione in diretta di voi tifosi al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 Ed è davvero tutto invece per questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e vi ringrazio per averci seguito